ciao a tutti io sono simone e qui con me c'è luigi che non dice niente lo sapevo e questo è Sergio del simuletto dobbiamo ce l'ho fatta a fare la propria operazione ovviamente non l'ho registrata adesso facciamo la seconda le re in mano non piada a piante di reni vici vuoi dire qualcosa no ok 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 mi devo ritornarmi come si fanno carina ma come cacchio si toglie sto lenzuolo di morti troverte aspetta come a california così cani fornì a te al prossimo allora dobbia difficoltà non si contatta il mio montonio all'intestino anche possono avere così a straparlo via no no ci posso perverso il seghettino elettrico il seghettino elettrico il seghettino elettrico Ma chi è che mi lascia le bottiglie qua? Io devo... Io devo... Ma è così, no? Sei rimasto incasterato, no? Vabbè, va bene, va bene... Ma che lo strisca sui stupor? Come che mu excepte la cosa sicko? Non te lo scorrò proprio, ma che lo strisca... Ma tutto bene, ci infilo la mano io, vai Staccarri mean? Vai, facciamoci il viaggio è la sua unica possibilità il fico bisturi che taglia tutta cos'è mai no questa parma io questa parma io no no adesso abita niente è ancora peggio è ancora peggio sta peggiorando sempre di più lo sto uccidendo con un anno addio è stato bello è stato ben rimasto bellissimo una serenita finanzata dentro va bene ma non era un problema in due minuti l'avevo ucciso in calma chat allora l'altra paziente era un caso di studi te non ti devi preoccupata andare di sicuro avevo già avvisato la vedova e scusa tua moglie voleva unire tieni ti metto un lenzone in faccia così non vedi cosa succede abbiamo qua pugno magico no pugno magico se mi perdono bene così l'orologio non mi sono diventato segretino elettrico ma se invece lo stassimo davvero al bisturi tanto siamo pieni di bisturi usiamo il cucchiaino voglio ucciderlo col cucchiaino voglio salvarlo scusa voglio dire salvarlo ok no non sembra che sta funzionando bene si però se tanti con questo non sembra che aspetta forse sni n no la mia mano la mia mano no via 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 n via n e via b un deciso non ho mai visto un dottore di operare come l'amonso e non c'è anche te vuoi imparare l'appugno il sangue va però non sarò una buona con la siringa bianca dici che provo a fare qualcosa aspetta sennò sennò i cucchiaino i cucchiaino la metti va e non mi devo non ho messo un punto da solo porco cari a ritori di acqua mi fa il numero io quando mi ripungo da solo c'era qualcosa che bloccava la perdita di sangue tieni così non vedi cosa faccio qui sotto voglio far giocare a puffetta secondo me piegava puffetta di me si muove all'altro più dall'altro tavolo il mattino metà il mio piaccia questo dentro così ok prendi il cucchiaino mamma cucchiaino è libera bellezza dai penso che provo a proviamo come si va di giocare al barcineca appunto massimo i metti lonti qua come un piede di porco lo usiamo si 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 guarda come l'ho preso bene con che piglio come gelato non abbiamo parlato un po' di certi come un orologio no 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 ok orologio è un chilo lascio è uno spavolo il cucchiaino aspetta eh dobbiamo fare una mano nooo ma perchè non si chiude l'ultimo dito non lo so vabbè mi mostro il cucchiaino adesso è parte integrante nel suo eh stava prova a metterlo così come stava smudellando per vedere fessi no aspetta come l'osso ok oh ah ah non sto facendo niente ammorbidisce 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 il poi lavaggio stavo facendo ammorbidisce il resto che ho con la mano se ci vuoi prova con la sega sega resti duca si può o ok no 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 questa è un giunglio anche sei e e l'uomo ma ma sono in testa ma non si può essere il contatto non è contenta l'intensità aspetta parte 5 anche stanno ancora peggio no no dentro il lavoro da berk mission il coton fioc il coton fioc sono indispensabile il mio cavallo con poca ed no sto facendo bengono e benzeri ok no 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 ma allora sta facendo nando io sappiamo che è stato la citazione tenere cantante segno com'è su per la sigla che blocca la sigla che blocca il pacco il troppo di un trapano posseduto il trapano posseduto ok no non ne voglio indirizzare e' un po' il posto dell'altra cosa che blocca silingalia silingalia lo stiamo perdendo lo stiamo perdendo no peggiora peggiora prova a farla sulla pelle peggio 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 vabbè ormai è andato è impossibile come si toglie l'intestino ultima tentativa abbiamo finito i minuti di registrazione ok allora tu devi stare tranquillo trapani laca gli altri due esperimenti diciamo che mi servivano per fare esperienza perché sapevo che in questo caso era più importante quindi non ti preoccupare abbiamo tutto sotto controllo vedi già ti sto mettendo l'enzione in faccia che è un buon segno sto testando che le tue cose le sede resistenti ma che adesso ne andiamo a rompere l'uomo e montiamo con una con una penna con una penna con una penna mi sembra no no eh Antonio oh no 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 peggio 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 oh che figata per mancare i vetri deve essere scattogliata questo pezzo di osso ieri ci fa un baffo a noi il maratello l'ho aiutato una matita con una matita no, pessimo, pessimo si incastra lui addio non so se è qui dietro anche sotto l'impressione non me l'ho fatto togliere non sono così sperato di avere l'automia uguale provo a togliere il fuoco si incastra mia, mi sembra niente, non mi segnerai oh no, oh no peggio stanno andando non sto pannello niente non è colpa mia qua è la pesca magica mi riuscivo a pannare qualcosa niente mi faccio mi faccio a slettichino non sta in mente sicuramente ci vuole questo per fare leva provo a prendere il piattino conto mi muto dentro il piattino tanto peggio di così non può andare vai ok può andare? sta andando peggio? si sta andando peggio va bene va bene un minico un po' indeciso nelle articolazioni ok 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 non volevo fare l'eva e fa le viettane ma niente intenzione ho l'attività c'è 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 la faccia di quello che spudella spudella taglia tutto taglia tutto non sarà più niente dai è stacciato chissene è morto è morto lo stavo perdendo lo stavo perdendo vai nel giocatore dell'organizzazione vai hai bisogno di avere eccolo qua aperta perfetto e niente non è stato sufficiente va bene niente noi studieremo medicina nel frattempo e al prossimo video riusciremo a fare qualcosa al prossimo video ciao 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 ciao